Per rivincere con questa coalizione in Veneto, quello che conta è la somma, quindi se un alleato fa il risultato e la somma è soddisfacente, ben venga. Dopodiché noi usciamo da questa tornata elettorale nel nostro piccolo soddisfatti, abbiamo avuto un risultato ottimo in Calabria, un risultato superiore alle europee in Emilia-Romagna con due o tre province dove abbiamo superato il 5% e l'Emilia-Romagna era il nostro nodo dolente nel nord-est. Siamo radicatissimi in Veneto con 900 amministratori che ci hanno sostenuto nelle 5 province che hanno votato, siamo radicati nel territorio e siccome l'affluenza sarà bassa e con tradicamento nel territorio siamo forti del risultato che faremo, importanti, determinati e determinati anche per la coalizione. Non preoccupati della carella nazionale, ti voglio, non ti voglio, ci sei, non ci sei. Noi abbiamo la nostra dignità e ci saremo a testa alta, altrimenti qualcuno si preoccuperà. Credo che questa lega di Salvini a livello nazionale non sia compatibile con noi, aggiungo, a livello nazionale. Non vuole l'euro, non vuole l'Europa, non vuole integrazione, non vuole niente. Vuole prendere i voti, li prende bene perché Salvini è bravo. Dopodiché mi pare che invece quando si parla di governare Lombardia i nostri nuove consigli regionali sono in alleanza con Maroni. Quando si parla di governare il Veneto sono il vice governatore della Presidente Zaia e mi pare che l'apporto è ottimo. Se qualcuno ritiene che c'è di meglio sul mercato, beh, faccia pure. Noi siamo sereni e tranquilli e determinanti e determinati. Mi pare che il problema sia, una volta è un problema Tosi dei Bitonci, una volta è Bitonci-Zaia, una volta è Zaia-Bitonci, poi c'è Salvini, dopo interviene Bossi. E io dico, tutte che riguardano loro, sono bravi a prendere i voti, non sono sufficienti i loro voti. Perché da un dato, la Lega ha fatto un grandissimo risultato e mi complimento con loro per la media Romagna. Dove abbiamo, come centro-destra, fatto il peggior risultato degli ultimi vent'anni. Quindi, mettendo insieme le due cose, quando la Lega raggiunge il suo massimo, il centro-destra raggiunge il suo minimo. Se in merito facciamo il nostro minimo rischiamo grosso, quindi meglio che anche noi portiamo, caso mai, del fieno in cascina.